Modini, 1400, Brignone, 1402, Palese, numero 1403, sulla salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale e sulle politiche in materia di salute, nella quale intervengono le deputate Gregori, Loreffice, Binetti e Lenzi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa la discussione sulle linee generali delle mozioni Fedriga, numero 1287, Dadone, 1401, concernenti iniziative a sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi economica, anche in relazione alle risorse attualmente destinate all'accoglienza dei migranti extracomunitari, nella quale intervengono i deputati Brescia e Piccione. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Interviene infine, per fatto personale, il deputato Zolezzi. La seduta termina alle 18.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 25 ottobre 2016 con inizio alle 11.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 49,2 del regolamento i deputati Alfredo Ramodio, Artini, Baretta, Stella Bianchi, Bindi, Braga, Catania, Cecchitto, Cominelli, Damiano Di Gioia, Epifani, Faraoni, Gianni Farina, Gentiloni, Silveri, Guerra, Mannino, Mazziotti di Celso, Nicoletti, Pes, Piccoli, Nardelli, Scanos, Sciulian, Sereni, Vigneroli e Zolezzi, sono in missione a decorrere della seduta di Erna. I deputati in missione sono complessivamente 114, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato a resoconto della seduta di Erna. Comunico che la Ministra per i rapporti con il Parlamento, le riforme costituzionali, con lettera del 24 ottobre 2016, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alle commissioni riunite quinta, bilancio e sesta finanze. Conversione legge del decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Parere delle commissioni prima e seconda, ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni, terza, quarta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale.